Mentre i tuoi coetani oggi li vediamo a casa giocare nella PlayStation, tu invece riprendi in mano un antico mestiere e ti trovi qui ad aprire una bottega. Io ad oggi ho 22 anni e vedendo molti giovani crescendo il lavoro me lo sono creato. Perché è giusto così che ognuno di noi deve prendere la strada giusta e non quella sbagliata. Poi grazie a Figuccio sto facendo un po' di cose più belle. Sperando di fare tanto anche del bene ad alcune persone che non possono fare tante cose, che sono malati terminali, bambini che stanno male negli ospedali, io voglio fare anche tanto bene a queste persone che ne hanno bisogno. Allora diciamo, gli faccio subito una proposta, perché no possiamo dare corpo a questa idea. Oggi l'Assemblea regionale premia un giovane proprio per il suo talento e per la sua determinazione. Potremmo mettere su una piccola associazione, se ti va, che si occupi proprio di poter aiutare i ragazzi in difficoltà. Sarebbe un piccolo gesto concreto, è una cosa bella che ti intesti, è una tua idea, io ti posso solo dare una mano. Grazie, grazie a tutti.